Ciao a tutti e benvenuti in questo video nel quale vi sto proponendo di dedicare un quarto d'ora al giorno agli incontri qua su youtube con me, ovvero i famosi 15 minuti con uncinetto fra nei quali cercheremo di portare avanti questo disegno, di realizzare questo disegno che ebbene sì è abbastanza lunghetto, è un motivo insomma che è di pubblico dominio quindi le hanno, le abbiamo, sì, diciamo alternano, facciamo così in maniera impersonale è lungo appunto dicevo perché volevo farvi vedere com'è no? una volta che si vanno ad alternare anche perché qui cambia e quindi fermarsi qui sarebbe stato complicato poi riprendere, stare a fare tutti i conti, insomma ho fatto io questa cosa per voi quindi un bel grazie qua sotto nei commenti, ci starebbe bene nonché l'iscrizione al canale, un bel commento, insomma dai datevi un'organizzata perché qua stiamo andando un pochino male con queste cose, iscrizioni, cose simili e quindi mi raccomando dai diamoci una svegliata perché mi date anche in questa maniera la sensazione che ci siete dall'altra parte va bene, quindi, e dicevo appunto questo qui, io lo chiamo a foglie, a losanghe, insomma non so per me sono comunque foglie, c'è chi lo chiama spighe e in vari altri modi più o meno diciamo fantasiosi per me, ripeto, continuano ad essere delle foglie ho sentito dire anche piume di pavone vabbè, ragazzi, a questo punto ognuno lo chiami come vuole perché non lo so, già è tanto che io abbia trovato diciamo le spiegazioni perché lo sto vedendo praticamente dappertutto cioè ho visto un maglione, ho visto una stola, ho visto mi pare che altro c'era una specie di cappotto, un pochino più lungo, quindi di un maglione, una cosa più lunga rispetto a un maglione ma sempre questo c'è quest'anno quindi dai, facciamolo, ho visto che ho avuto la fortuna di trovare praticamente le spiegazioni su un prontuario e quindi nessuno si è praticamente inventato nulla c'era il punto, c'era da tanto tempo perché questo prontuario è piuttosto diciamo datato dove l'ho trovato io, però significa che questi motivi traforati stanno tornando, sul canale ce ne sono anche altri fatti l'anno scorso, addirittura due anni fa quindi significa che trend si ripete questo dei motivi traforati anche quest'anno bene, perché noi li sappiamo fare quindi ne possiamo fare quanti ne vogliamo poi l'utilizzo ognuno sceglie il suo vediamo cosa ci farò io, vediamo cosa ci realizzerete voi con le foto, tutto insomma ci confronteremo intanto impariamo il punto vi posso dire che vado di fretta perché comunque dai questi primi saranno più di 15 minuti ma dopo 15 minuti tassativi al giorno ci vuole un multiplo necessariamente perché è chiaro è motivo, vedete che si ripete anche sfalsato comunque si ripete questa cosa qui, questa foglia quindi il multiplo è 12 più 7 7 perché all'inizio e alla fine io ho messo 3 maglie quindi 3 qua e 3 qui è al di fuori del motivo perché non si può cominciare necessariamente subito così è brutto quindi anche per le cuciture se qualcuno vuole fare un maglione eccetera ho lasciato 3 maglie e 3 maglie e poi mettetene una quindi 12 lo dovete moltiplicare per il numero di volte che volete questo motivo qua quindi io ad esempio 3 ho fatto 12 per 3 che fa 36 più 7 è 43 se volete metterne due soltanto ma con due soltanto cosa ci fate? comunque mettiamo che uno abbia una lana più spessa e vuole farci una sciarpa e questa cosa qui ne bastano due per raggiungere qui ho stirato male non vedo queste cose e quasi mi sento male ok allora dicevo due volte moltiplicate 12 per 2 che fa 24 più 7 fa 11 7 più 4 è 11 quindi 31 31 per fare due motivi 12 per 4 fa 48 più 7 fa 55 se non erro fate voi questi conti ok se volete mettere due e due potete fare tranquillamente un multiplo di 12 più 5 ne mettete due qui due qui più quella no? però io direi che 3 vanno bene non fanno girare vedete la maglia sulle sciarpe la maglia rasata quindi secondo me questo è giusto questo va bene se ad esempio volete fare una stola no? così è già di su va bene già di su così la stola non c'è bisogno di fare nient'altro qua intorno e quindi dai questo secondo me è il calcolo 3 3 più 1 e il multiplo di 12 per quanto riguarda ferri materiali adesso non diciamo niente perché comunque è un campione ognuno sceglierà poi il materiale con il quale vuole realizzare il lavoro impariamo quindi il motivo con qualsiasi cosa abbiamo in casa la più comoda possibile nel senso quella che vediamo meglio che lavoriamo meglio così diciamo ci facilitiamo un po' il percorso che non sarà complicato perché non è un motivo troppo complicato non sarà neanche troppo difficile recuperare se uno sbaglia perché i ferri pari si lavorano tutti a rovescio quindi il lavoro necessariamente si fa sui ferri 1, 3, 5, 7, 9 eccetera gli altri il 2, 4, 6, 8 sono tutti ferri e rovescio e se c'è qualche sbaglio si può disfare fino a ritrovare quel ferro rovescio che sia due ferri sotto che sia un ferro sotto che sia quattro ferri sotto si arriva lì e si in qualche maniera cerca di provvedere all'errore di recuperare l'errore certo nei punti traforati sarebbe sempre meglio non fare errori quindi buona la prima per cui scriversi i ferri come ho fatto un po' io qui tutto magari e andare a farlo punto per punto meglio non sbagliare quindi che andare a recuperare dopo qualcosa vi auguro buon lavoro spero che stare in mia compagnia vi faccia piacere e mi raccomando allora iscrizione campanella mi piace commento condivisione insomma ormai avete imparato il livello è medio medio alto ma no alto no diciamo medio bisogna saper fare la maglia rasata il gettato l'accavallato semplice le due maglie insieme al dritto chi sa fare questo soprattutto le sa combinare queste cose tutte insieme riesce a fare tranquillamente il lavoro eseguendo la cosa insieme a me perché andrò molto molto piano se qualcuno si annoia è chiaro può passare oltre e continuare tranquillamente ho appena messo sul ferro 43 maglie perché lo ripeterò tre volte mi perdonerete se ho utilizzato della lana appena disfatta qui che ho praticamente disfatto e fra un po' non ci sarà più questa arrocciolata però dai le finanze sono quello che sono e quindi utilizziamo questa lana qui anche perché qua ho già utilizzato quella nuova quindi dai su fatemi risparmiare un attimo abbiamo detto quindi che sui ferri dispari si facevano il lava lavorazione su quelli pari sono a rovescio quelli pari quindi iniziamo il primo ferro facendo sette maglie al dritto quindi una due tre quattro cinque sei sette poi due maglie insieme al dritto eccole qui un gettato una maglia a rovescio un gettato e un accavallato semplice benissimo questa cosa qua la ripetiamo altre due volte però per ora facciamola insieme quindi sette maglie al dritto una due tre quattro cinque sei sette due maglie insieme al dritto eccole qui perfetto poi un gettato un rovescio un gettato e un accavallato semplice ancora una volta quindi sette maglie al dritto una due tre quattro cinque sei sette due insieme al dritto un gettato un rovescio un gettato e un accavallato semplice ecco qui noi abbiamo ripetuto tre volte il motivo se dovete ancora ripetere altre volte continuare cominciate con sette al dritto due insieme al dritto eccetera mentre noi finiamo con sette maglie al dritto quindi una due tre quattro cinque sei e sette ok se non avete capito la parte in cui ricominciare quando avete un multiple cioè quando dovete fare più di tre volte mi raccomando scrivete su un quadernino così vedete dove no si deve ricominciare praticamente vedete anche io qua ho fatto lo schermino e so che qui devo fare una volta poi questa è la seconda volta la terza volta poi devo finire così qua cambierà e vedremo però anche voi ecco scrivete oppure vi scrivo un attimo io e poi da quello andrete a dedurre no dove bisogna continuare nel caso voi abbiate un multiplo maggiore di tre ok il secondo ferro abbiamo detto facciamolo a rovescio e quindi lo facciamo ognuno per conto proprio devono venire sempre 43 maglie perché abbiamo messo lo stesso numero di diminuzioni e di aumenti infatti le diminuzioni le abbiamo fatte prendendo due maglie insieme al dritto o con l'accavallato semplice gli aumenti li abbiamo fatti con i gettati e se le andate a contare praticamente sono le stesse e quindi le maglie alla fine del secondo ferro saranno sempre 43 ferro numero 3 iniziamo con 6 maglie al dritto quindi una due tre quattro cinque e sei poi facciamo due maglie insieme al dritto che sono queste un gettato un dritto un rovescio poi un dritto quindi un gettato e un accavallato semplice ecco perché la diminuzione deve stare qua adesso continuiamo e dobbiamo fare per due volte questo che vi dico ora ovvero 5 maglie al dritto quindi 1 2 3 4 e 5 2 maglie insieme al dritto un gettato un dritto un rovescio c'era qui poi ancora un dritto un gettato e un accavallato semplice eccola quindi ancora una volta 5 maglie al dritto 1 2 3 4 5 2 maglie insieme al dritto un gettato un dritto un rovescio un dritto un gettato è chiaro e un accavallato semplice perfetto dovremmo terminare con 6 maglie al dritto vediamo se ci sono 2 4 6 quindi abbiamo fatto tutto bene 1 2 3 4 5 e 6 il quarto ferro è un rovescio noi invece adesso facciamo il quinto ferro allora iniziamo con 5 maglie al dritto quindi 1 2 3 4 e 5 avete visto abbiamo fatto 7 6 5 no? poi 2 maglie insieme al dritto ok ok un gettato 2 maglie al dritto 1 2 poi un rovescio e poi la cosa speculare quindi 2 maglie al dritto un gettato e qui un accavallato semplice perché da questa parte facciamo invece che 2 maglie insieme al dritto facciamo un accavallato semplice adesso adesso lo ripetiamo però ci sono è chiaro 3 maglie perché la losanga avete visto della foglia fa praticamente di questo no? quindi qua in mezzo ce ne sono meno in quanto qui abbiamo quelle 3 in più che noi abbiamo messo come bordo in qualche maniera quindi qua in mezzo ci sono necessariamente 3 maglie al dritto poi 2 maglie insieme al dritto il resto è invece uguale quindi 2 maglie insieme al dritto appunto un gettato 2 maglie al dritto 1 e 2 un rovescio 2 maglie al dritto un gettato e un accavallato semplice ripetiamo questa parte ancora una volta quindi 3 maglie al dritto e 3 2 maglie insieme al dritto eccola qui eccole qui poi un gettato 2 maglie al dritto 1 e 2 un rovescio 2 maglie al dritto un gettato e l'accavallato semplice e vediamo se avete capito con quante maglie dobbiamo finire con 5 come abbiamo iniziato quindi 1 2 3 4 e 5 sesto ferro rovescio sempre 43 maglie dobbiamo fare il ferro numero 7 dove iniziamo con 4 maglie al dritto quindi 1 2 3 e 4 poi qui che cosa ci sarà le due maglie insieme al dritto ormai no? questo è facile poi ci sarà il gettato 3 maglie al dritto quindi 1 2 3 una maglia al rovescio 3 maglie al dritto 1 2 3 il gettato e l'accavallato semplice se voi ragionate un po' di logica lo vedete bene c'è questa maglia al rovescio centrale ci sono le prime maglie poi questo insieme al dritto eccole qui il gettato poi le 3 maglie quella rovescia e la parte speculare quindi le 3 maglie al dritto il gettato e l'accavallato semplice che corrisponde alle 2 maglie insieme al dritto quindi cominciamo anche un po' a ragionare quando facciamo le cose non le ripetiamo così a pappagallo quindi adesso c'è un solo dritto perché qui c'erano in più queste del bordo quindi la seconda volta noi ricominciamo con un dritto poi le stesse cose quindi 2 maglie insieme al dritto un gettato 3 maglie al dritto quindi 1 2 3 qua c'è la maglia rovescia quindi una al rovescio e di nuovo 3 maglie al dritto un gettato e l'accavallato semplice ecco si vede bene che qui sopra ci deve andare l'accavallato semplice riprendiamo per la terza volta quindi una maglia al dritto 2 maglie insieme al dritto il gettato 3 maglie al dritto una maglia una maglia a rovescio 3 maglie al dritto quindi 1 2 3 il gettato e l'accavallato semplice e poi dobbiamo terminare come abbiamo iniziato ovvero con 3 scusate con 4 si 4 maglie al dritto quindi 1 2 3 e 4 ottavo ferro rovescio e 3 2 4 5 6 6 10 11 11 11 12 12 15 13 13